Consegnavo periodicamente cocaina già suddivisa in confezioni a 35.000 euro al chilogrammo e le portavo nei pressi di un autosalone in provincia di Brindisi gestito da due fratelli. Quantità, prezzi e luogo delle cessioni della cosiddetta bianca sono stati svelati dal collaboratore di giustizia Pierluigi Chionna, 45 anni, di Francavilla Fontana, al PM della DDA di Lecce. I verbali degli interrogatori resi da Chionna ai domiciliari in una località segreta sono stati depositati dalla PM Carmen Ruggero in occasione dell'udienza preliminare nei confronti di 38 imputati dopo la conclusione dell'inchiesta chiamata The Wolf sul gruppo l'amendola Cantana ritenuto di stampo mafioso e attivo nel traffico delle sostanze stupefacenti. Chionna sta scontando una condanna definitiva a 7 anni e 10 mesi di reclusione per traffico di droga. È stato condannato a 20 anni non definitivi con la stessa accusa in un altro procedimento. Il collaboratore ha riferito dei contatti che avrebbe avuto con uno degli imputati, Francesco, detto Ciccio, Turrisi, originario di Ostuni ma residente a San Vito dei Normanni e ristretto nel carcere di Santa Maria Capovetare dopo il blitz eseguito dai carabinieri lo scorso mese di giugno. Chionna ha precisato che uno dei fratelli che gestiva l'autosalone venne arrestato tempo fa per un tentato omicidio ai danni di un giovane di San Vito dei Normanni. Il francavillese, che ha firmato il verbale illustrativo della collaborazione, è stato già ritenuto attendibile dal Tribunale e che ha vagliato la credibilità delle sue dichiarazioni nel processo celebrato con rito abbreviato nei confronti di Giovanni Donatiello, alias 5 lire di Mesagne, condannato con l'accusa di tentata estorsione mafiosa a 5 anni di reclusione.